E' un calcio mercato da brividi quello che si sta vivendo in Serie D. Il colpo di giornata lo metterà a segno il Fasano. La società del presidente Franco D'Amico, come abbiamo anticipato già nella giornata di ieri, è in chiusura con Daniele Vantaggiato, attaccante, classe 1983, fresco di risoluzione del contratto con il Livorno. L'ex crotone Bologna e Parma ha già raggiunto l'accordo e rappresenterà la ciliegina sulla torta di un mercato che sta proiettando il Fasano tra le big. La squadra di mister Ivan Tisci sta seguendo con interesse anche Alessio Moruso, centrocampista classe 2003 del Francavilla Insigni, trattativa però non semplice per lui. In ogni caso sarebbe un ritorno. Pablo Acosta ha le valigie in mano. L'attaccante argentino firmerà ad Angri, destinazione più probabile, o Monte Spaccato. Da Livorno, oltrevantaggiato, è in uscita anche l'ex Lecce Giuseppe Torromino che firmerà però con la San Benedettese. Il Casarano nelle ultime ore ha rilanciato per Nicola Citro in uscita dalla Pistoiese, ma segue anche altre trattative. Il Brindisi, dopo aver prelevato il giovane Dimo Dugno dal Molfetta, attende sempre notizie da Picerno per Lorenzo Liurni. Il calciatore non ha ancora l'accordo per la rescissione. Per l'attaccante invece se ne parlerà all'apertura del mercato professionistico. Il Nardò ha ufficializzato l'ex Ascoli a DAE a centrocampo, col quale aveva chiuso l'accordo già la scorsa settimana. Il Molfetta ha parcheggiato definitivamente la trattativa con Demiro Pozzebon che non convinceva, virando su Ante Kordic che esordirà già domenica prossima. Si riapre la trattativa tra il Barletta e il centrocampista ex Virtus Francavilla e Lecce Gianmarco Monaco. La Nocerina prova a trattenere i suoi gioielli ma perderà sicuramente il giovane attaccante Mamadou Baldè che questa mattina ha chiuso la trattativa con la Lazio inseguendo il sogno di giocare col più famoso fratello Keita Baldè.